Penultima settimana di squalifica per l'analitore della roccheser Giovanni Ligori, il quale in vista della sfida contro un non irresistibile Olympic Salerno, penultimo in classifica e seconda peggiore difesa del girone, dovrebbe confermare l'undici titolare dell'ultima partita, pareggiata per 0-0 in trasferta a battivaglia contro l'area Laversana. Spazio dunque al 4-3-1-2, modulo ormai confermatissimo dal rientro della squalifica di Capitano Cristian Desio, autentico talismano e trascinatore di questa squadra, partita non benissimo ma che da quando può contare di nuovo sul proprio fantasista, ha inanellato una serie di risultati utili consecutivi, capaci di proiettare la rocchesi tra le prime della classe. Tra i pali spazio al giovanissimo Rispoli, il quale andrà il compito di guidare un ottimo difesa sin qui, capace di lasciare la propria porta inviolata in sei occasioni su nuove gare totali. Liguri aspetta ancora gli infortunati di Amico e di Libero, le cui assenze del reparto centrale obbligano l'allenatore a far ruotare sempre i soliti lì in mezzo al campo, che per tale motivo col passare delle giornate hanno perso un po' di lucidità in zona di smistamento e creazione delle palle gol. Carenza evidenziata soprattutto nell'ultima partita, che poteva e doveva vedere la rocchese portare a cassa il massimo del bottino. Come già detto, partita impegnativa per il Salernum, reduci da due pareggi di fila, che hanno portato anche gli unici punti sin qui raccolti dalla squadra di Marinari, subentrata appena due giornate fa la guida del team Salernitano e intenzionata a smuovere il più possibile la classifica per far risalire la china ai suoi. Non sarebbe una sorpresa se per affrontare una rocchese molto spregiudicata venisse effettuato un cambio di modulo, accantonando almeno temporaneamente il collaudato 4-2-3-1, sacrificando qualche giocatore offensivo al fine di rendere più compatto e numericamente superiore il pacchetto difensivo. In caso di vittoria la rocchese potrebbe recuperare punti preziosi alle squadre che la precedono, in particolare la Bolitana, impegnata in casa contro il Volcei, e al Calpazio, atteso per una difficile trasferta contro il Real Stella.